L'acqua, un bene fondamentale di cui gli abitanti della Terra dovranno imparare ad avere più cura negli anni a venire, pina il suo esaurimento. La tutela delle risorse idriche è anche uno dei temi sui quali si concentra l'attività del Rotary International a livello mondiale e di conseguenza anche del Rotary Club Bari Mediterraneo. Un'attività che si è concretizzata nel sostegno all'Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto, difficile quartiere periferico di Bari, che si occupa di salvare dalle marginazioni i ragazzi tra i 16 e i 19 anni, ragazzi che realizzeranno nei prossimi quattro anni tre spot su temi di interesse collettivo. Il primo, il valore dell'acqua, è stato presentato a Bari nel Meta Resort Terra Nobile. Il Rotary International è sensibile a quelle che sono il disagio giovanile, ma anche ad altri problemi, il problema delle risorse idriche, la gestione virtuosa dell'acqua. Quindi abbiamo pensato di favorire un'associazione che insiste sul territorio nostro, in terra di Bari, che è l'Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto. Una produzione che ha visto il sostegno attivo di Ikea Italia e dell'Acquedotto Pugliese, pronti ad accogliere la proposta di collaborare a un progetto a cui crede molto anche il direttore dell'Accademia, Pino Guario. È uno spot sociale che risponde benissimo a quelli che sono gli obiettivi dell'Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto. Impegnata, come ormai sanno tutti, da diversi anni in questo quartiere, all'interno di una progettualità legata all'educazione, alla legalità e quindi a tutte le tematiche che appartengono al sociale.